me fiba me fibo uffa non riesco a dirlo come sta venendo il tuo discorso malissimo questo è troppo difficile per me ti ricordi cosa significa il nome geova sì e gli fa divenire bravo geova può diventare tutto quello che serve per fare cose difficili e può aiutare gli altri a diventare quello che lui desidera pensaci un attimo geova è il creatore pensa a tutti gli animali che ha creato guarda quant'è grande questa balena geova ha creato l'universo guarda quanti pianeti ha fatto fa in modo che tutta la creazione abbia il necessario per crescere geova può far diventare forti anche noi pensa a mosè era un uomo timido ma geova l'ha usato per dividere il mar rosso se geova può fare tutto questo non pensi che potrà aiutarti a pronunciare nomi difficili e a prepararti per il discorso ma ovviamente per ricevere il suo aiuto dobbiamo prima di tutto chiederglielo e il suo nome era mefiboset e i figli di rimmon il vero dita